Dopo la paura e l'intimidazione del febbraio scorso per il parroco di Vareapodio, Don Giovanni Rigoli è il tempo di speranza. Nei giorni scorsi, infatti, in occasione delle festività pasquali, il sacerdote ha ricevuto in dono dalla comunità parrocchiale una nuova automobile. Un segnale forte da parte dei cittadini varapodiesi, a circa due mesi dai fatti di cronaca che hanno interessato il giovane prete Taurio Anovese. Nei primi mesi dell'anno, infatti, Don Rigoli ha dapprima subito un'aggressione al termine di una funzione religiosa, poi ha subito l'incendio della macchina parcheggiata vicino alla canonica della chiesa di San Nicola, fatti che hanno generato scalpore nell'opinione pubblica dell'intera Calabria e che hanno portato alla netta presa di posizione da parte delle istituzioni locali e del vescovo della diocesi di Oppido Palmi, fino alla fiaccolata silenziosa che ha coinvolto centinaia di persone. Il giorno di Pasqua, invece, è un momento di gioia con il sindaco Orlando Fazzolari che ha consegnato la nuova automobile a sacerdote.